Ciao Das Video! Oggi compie gli anni Lucky del canale Lucky Play on Tape. Allora, questo qua ragazzi, se ancora non lo seguite, questo canale qua dovete assolutamente andarlo a seguire. Il mio amico Lucky è fortissimo! Lucky Play on Tape, se voi guardate nelle playlist, il punto di Lucky parla della sua maniera, il suo punto di vista su diversi argomenti, diciamo. Lucky Tech invece magari è tutto l'hardware, quello che riguarda l'hardware, videocamere, fotocamere, accessori come mouse, gamepad, tutto quello che riguarda le console, insomma tutto quello che è l'hardware, lui ne parla nell'Hacky Tech e approfondisce le varie cose, spiegando bene bene, facendo un unboxing, spiegando proprio il materiale con cui è stato costruito un oggetto e poi insomma i prezzi, che prezzi magari paragona con uno che costa di più, uno che costa di meno, fa anche dei paragoni. Insomma, bravissimo, bravissimo e molto competente. Recensioni, perché lui, insomma, videoludicamente è uno che ha giocato sempre a tantissimi giochi e quindi ne sa un totale, quindi videogames, e quindi dice la sua critica, la sua discrezione, dice quello che pensa e lo valuta secondo, insomma, secondo i suoi parametri, quanto può essere più o meno bello un gioco o più o meno bello, poi dopo rientra la soggettività, però alcuni parametri, insomma, tecnici un po', sono anche oggettivi, diciamo. Allora, poi ovviamente ci sono le live dove si possono incontrare diverse persone simpaticissime, tante bellissime persone, anche io con Lucky ho fatto sempre delle bellissime live insieme e ci troviamo veramente bene perché poi siamo persone che ci vogliamo troppo bene, quindi, e ci capiamo, ci capiamo molto bene. Allora, poi extra plays, c'è movie games, gameplay, quindi il videogioco, insomma, dei vari gameplay, ci sono le cose legate a Twitch, creepy games, quindi giochi un po' più paurosi, first look, invece, è un primo sguardo a determinati giochi, insomma, un primo sguardo dei giochi, cosa c'è da dire? Si capisce, si capisce, è un primo sguardo. Cioè, chi magari lo fa per la prima volta e ci dà un'idea. Eh, ragazzi, ragazzi, comunque, vedete qua adesso gli ultimi suvidi, questo video non è un capolavoro, ma grazie, anche quando scrivo queste cose, ma è il canale di Lucky che è un capolavoro, è veramente un capolavoro. Ehm, parla di un mucchio di argomenti... Ragazzi, ragazzi, seguitelo, seguitelo, perché merita veramente tantissimo, 647 iscritti, ma ne deve avere migliaia, 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 valanghe di iscritti Lucky, quindi iscrivetevi immediatamente, io metterò il link in descrizione. E comunque, caro Micolachi, un abbraccione grande, grande, ti voglio tanto bene, io spero che tu abbia tante felicità, tante salute e tante cose belle, perché meriti veramente tante cose bellissime. Questo qua è il mio augurio più grande per questo tuo compleanno, proprio che tutto ritorne come un bel sole luminoso per te, che sei un grande, sei un grandissimo, e ti voglio vedere fare tanti bellissimi video come sei fare solo a te, che sei bravissimo. Complimenti davvero, davvero, davvero. Lo sai che io ti stimo veramente tanto, 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 tanto. Ciao, 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 ciao.